Buonasera cari telespettatori, benvenuti qui in questo spazio dedicato agli approfondimenti. Arriviamo dopo il telegiornale. In queste settimane abbiamo conosciuto diversi protagonisti di questa tornata elettorale che ormai veramente è agli sgoccioli pochi giorni e poi si va al voto ma noi continuiamo a farvi conoscere i protagonisti di queste elezioni amministrative 2019. Anche questa sera qui nel nostro studio ospitiamo un candidato, un candidato che salutiamo subito. Buonasera Alessia Di Girolamo, candidato al Consiglio Comunale nella lista di noi giovani per Fano. Alessia Di Girolamo è un avvocato, leggo per non sbagliarmi perché ha una sfilza di incarichi che vanno giustamente evidenziati, è una dipendente dell'ufficio penale Saipem, fa parte anche dell'RSU della stessa Saipem, è delegata sindacale regionale e nazionale pari opportunità per la Wiltec. Inoltre è una componente della commissione per pari opportunità della regione Marche, quindi anche impegnata a livello regionale, due mandati, quindi direi un'esperienza consolidata, in quest'ultimo mandato è anche responsabile regionale dell'inclusione sociale, componente della consulta regionale handicap e referente di diverse associazioni di categoria. Quindi insomma un complimenti per tutto il tempo che riesce a trovare per dedicarlo naturalmente alla sua professione, professione di avvocato, ma anche a questa componente come dire sociale della sua vita. Allora la domanda che facciamo a tutti in apertura e che quindi rivolgo anche a lei è questa, essendo un volto nuovo non per i suoi impegni politici anche per quello che riguarda l'impegno sulle pari opportunità, però per Fano è un volto nuovo, quindi pur essendo in una lista consolidata come quella di noi giovani per Fano, le chiedo le motivazioni che l'hanno spinta a entrare così in campo in questa tornata elettorale. Beh, così come abbiamo appena visto insieme, ho tutti questi ruoli, sia con la mia vita personale e professionale. Da sempre io mi sono impegnata e la mia vita si è incrociata nella direzione della difesa dei più deboli. E appunto da prima ho la libera professione all'esercito d'avvocato, poi ho la commissione pari opportunità, da ultimo alla difesa dei lavoratori come sindacato e mi è passato doveroso questa scelta di mettermi in gioco per la città che mi ha accolta e che ancora vivo e quindi da quella scelta di entrare in campo e battermi anche per una Fano migliore. Anche perché appunto, nonostante tutti i ruoli che ricordo, credo che con la mia persona, quindi con la mia o essere diversa, meglio io posso rappresentare una parte della società che comunque viene così nominata debole, ma che debole invece non deve essere, in quanto debba essere invece una opportunità, una risorsa, un grande valore, una ricerca, un valore aggiunto e quindi penso che con la mia diversità meglio di me mi può rappresentare questa parte della società che fa parte della società stessa, per cui perché non farlo per farlo, mi sembra dopo un lungo periodo di riflessioni, mi sembra una scelta rinunciabile a questo punto. Poi la scelta di appartenere alla lista Noi Trovami, proprio perché i Trovami sono lo specchio del futuro per cui mi pare giusto e anche più doveroso dare supporto a questa parte politica della società, insomma. Benissimo, in Regione ha ricoperto diversi incarichi, si è impegnata per tantissimi provvedimenti, anche che l'hanno vista proprio promotrice, quindi invece per Fano, volendo calare la sua esperienza che ha vissuto in Regione sulla realtà fanese, come si può coniugare con appunto la realtà? Beh, infatti come abbiamo detto nella Commissione Pace Costunità, ho avuto un modo di consolidare la mia esperienza nel sociale, perché nel primo mandato mi sono occupata soprattutto di essere vicina ovviamente alle donne sbancacciate e anche vittime di violenza. In questo secondo mandato ho voluto un attimo spostare lo sguardo e partendo da me occuparmi più che altro della disabilità. E con la Commissione Pace Costunità il primo passo, diciamo, è quello più forte è stato proprio quello di mettermi, insomma, mettermi in gioco facendo un film, realizzando un docufilm, che in questi giorni sta attirando per Fano, anche stasera lo colletteremo alla Sala Cubo alle ore 21. È un docufilm che parla della diversità, della disabilità, parla della mia vita e parla della disabilità vista con le sfumature più eroniche, ma anche, insomma, con le sue sfumature più meravigliose, più speciali. Da qui mi sono voluta partire fino ad arrivare a Fano, dove praticamente il mio impegno è stato, inizialmente, partecipando a un accordo di chiesa per il turismo accessibile e sostenibile firmato per l'Università Europea. Poi ho voluto realizzare un concetto spiace accessibile, dove praticamente meno 41 stabilimenti del territorio famese sono ora dotati di sedi e mari speciali, per poter consentire l'accesso al mare alle persone che hanno mobilità ridotta. E da ultimo, un enorme successo, e penso che sia rimasto nella storia del cuore dei famesi, è l'evento, ma anche un progetto che va a pari passo nella strada, dove praticamente io, prima persona, ho voluto invitare l'amministrazione attuale, diciamo, quella uscente, a partecipare a un commercio diverso, insieme agli altri cittadini, per verificare prima persona l'inaccessibilità della città. E quindi tutti insieme abbiamo provato a metterci sulle serie a sotelle, praticamente, e verificare prima persona quali sono gli ostacoli che, almeno, praticamente influenzano la quotidianità delle persone invece con problemi. Certo. Quindi se a Fano qualche spiaggia è dotata di una sedia speciale, lo dobbiamo sicuramente al suo impegno e alla sua perseveranza nel perseguire alcuni concetti base. Io so che lei gira il mondo per i suoi incarichi, anche a livello sindacale. Qual è il grosso gap che l'Italia paga? Qual è lo scotto che purtroppo paghiamo su questa tematica? Beh, diciamo, è proprio, come si può dire, il punto, diciamo, del programma, o del mio programma sociale, o del programma di Noi Trovami, che è stato voluto apportato da me personalmente, è quello delle barriere culturali. Perché? Perché in una linea uno penserebbe la barriere architettomica. Certo. Certo, quella c'è, e ancora se ne sono molte, nessuno da battere. Ma il mio concetto, la mia idea va molto oltre. Nel senso che l'abbattimento della barriere architettomica non deve rimanere un qualcosa fino a se stesso, ma deve essere un mezzo per poter arrivare all'infinizione sociale vera e propria. E poi ancora oltre, oltre nel senso che io vedo questa cosa basata su tre punti. L'abbattimento delle barriere architettomiche collegata alla barriere culturale. La barriere culturale collegata alla coesione sociale e la coesione sociale collegata all'economia sociale. Abbiamo fatto, ad esempio, delle spiagge. Sì. L'ho fatto io il progetto. L'ho realizzato io, quindi chiaramente è un bel progetto. Ma sono pienamente consapevole che questo ovviamente non basta. E, diciamo, è solo un piccolo spazio, un piccolo tassello e voglio dare un piccolo segnale. Certo. Perché la cosa neve e spero che vada oltre. Perché, appunto, avere uno stabilimento con una accessibilità vera vuol dire costituire una rete intorno a una serie a mare. E vuol dire, mi spiego ancora meglio senza essere molto testa. Se io disabile, o comunque non disabile, oggi siamo una popolazione vecchia. Certo. Se io arrivo in mare, ok, va bene, abbiamo la serie. Ma poi non c'è il personale giusto per... Cioè, formato adeguatamente. Se io mi ha un aiuto, il nome, poi, all'accesso. E da lì andiamo ancora oltre. Diciamo che non c'è, quindi, una indipendenza. Perché io sono costretta ad arrivare al mare con un accompagnamento di altre persone, come anche la disponibilità di altri. Se invece si va oltre questo concetto, quindi la barriera di rettormica, e magari si costituisce una rete, penso che il mereste della singola persona vada o a influire sul mereste di tutta la società. Perché io sarei contenta di arrivare al mare, trovare la serie, ma trovare anche qualcuno che mi viene una mano. Questo qualcuno, magari, potrebbe avere un curriculum professionalizzante, magari fargli fare un posto di formazione, dove, magari, potrebbe anche rivenderlo in tutta Italia, o all'estero, a livello lavorativo. Quindi io sarei contenta, lui sarebbe contento. Lo stabilimento acquisirebbe comunque una visibilità diversa. Non è anche economica, perché ci sarebbe un... Un ritorno. Un ritorno. Un ritorno. E anche a livello comunale. A comunale, se non è uno stabilimento, ma ci sono venti e fanno la stessa cosa, sicuramente un comune o le aste comunali, insomma, sarebbe ancora un po' più elevato a livello economico. Quindi il concetto è quello che io voglio riportare avanti, è proprio questo. Il... 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 Mi raccomando di tessuto sociale. Quindi non più categorie. Cioè non più disabili. Bimbiati. anziani, bambini, donne, no, siamo tutte persone con gli stessi desiti, i desiti devono avere la stessa importanza, e la stessa importanza vuol dire che devono essere desiti di tutti, altrimenti sarebbero privilegi, ma se io sto bere perché mi viene dato un servizio, sicuramente stando bere io il mio bere essere, si vuol dire bere essere tutta la comunità, e si sarebbe anche più questione sociale, perché diciamo la persona diversa da me potrebbe abituarsi a condividere i propri spazi insieme ad altre persone, invece sono diverse da lui, insomma. Quindi l'inclusione, la vera inclusione passa attraverso uno scatto culturale, ma anche mentale, forse un modo di vedere, di pensare, lei gli sguardi delle persone ce li ha quotidianamente addosso, e quindi penso che su questo ragionamento si possa fare tanti passi in avanti, immagino, no? Sì, molto, ma è proprio per questo che io dico che chi meglio di me può capire, o comunque può meglio rappresentare questa parte, diciamo, di fascia deboli, perché magari un occhio critico come il mio sicuramente non è un occhio di un'altra persona, e anche come hai giustamente detto, io ormai sono abituata ad avere gli occhi puntati, perché sono nata così, sono stata abituata a combattere, anche se non si si abitua con lì, mai abbastanza, perché lasci la mattina e voglio cominciare a combattere, è una guerra, però quello che io dico sempre è che è un buon rischio columinare, è che parlo per me, ma penso di parlare quasi per tutti, noi non ci sentiamo diversi, perché siamo diversi, ma ci sentiamo diversi nel momento in cui è la società che ci mette davanti negli ostacoli, che sia uno ostacolo abbattibile con 10 euro, o che sia uno ostacolo abbattibile invece con la mente, è lì che noi ci fermiamo e ci sentiamo diversi, se invece magari già ci fosse un concetto completamente differente, partendo da quello mentale, sicuramente non esisterebbe la diversità, ma come dicono, semmai l'unicità delle persone, la specialità. E forse abituarsi anche a vedere oggetti che facilitano la vita di persone che sono sicuramente con abilità diverse a fare parte della nostra quotidianità, come vedere una rampa, un bancone diverso, qualsiasi cosa che può facilitare la coesione nella società e nel quotidiano di queste persone così deboli come le hai giustamente sottolineate, forse farebbe fare uno scatto mentale anche a chi comunemente entra in un bar e prende un caffè. E' molto semplice anche la vita di tutti, perché oggi siamo abituati, io lo percepisco, lo sento, lo vedo, appunto a percepire la persona diversa come un peso nella società, ma se noi imparassimo appunto a cambiare il concetto, non dico il servizio, il servizio ci deve essere, quindi io non sto dicendo che quello che c'è non va bene, il servizio ci deve essere, così come abbiamo fatto l'esempio nella serie amare, ci deve essere, deve migliorare, ma non basta questo, serve proprio una rete intorno, e sia istituzionale, e sia familiare, e sia sociale, quindi è questo che dobbiamo aiutare la comunità a fare, a vedere diverso da noi come non più qualcosa di diverso, ma facendo parte della stessa società. Ci sono immagino azioni concrete, dirette, che lei avrebbe piacere di attuare? La spiaggia sicuramente lo vorrei portare avanti, ora chiaramente non ho una macchetta magica, quindi non posso assicurare il futuro, però sicuramente il concetto delle spiagge è un mio pallino che vorrei portare avanti, ma questo lo applicerei in ogni campo, sia socializzazione, sia amministrativo, perché posso fare esempio anche, tra virgolette, banale, in un teatro o in un bar, cioè se a me non mi si dà la possibilità di entrare in un bar e fare un'unità sociale normale, è chiaro che a livello sociale io sono tagliato a fuori e il commerciante non guadagna perché io non c'entro e io magari vado a spendere i miei soldi dall'altra parte, quindi questo è tutto un'unità che si manca la cosa, anche a livello burocratico secondo me avrebbero facilitate molte cose e questo non viene fatto, proprio perché gli eletti vengono fatte da chi non ha il problema, e quindi non lo vive... Esatto, io sono stata sempre una di quelle che ha pensato, che ha lì là di me, ma credo che partendo da un comune, una regione, uno stato, qualsiasi contesto che ci sia insomma, debba avere al suo interno una persona a base di avere un occhio critico, non diverso, critico, perché altrimenti non si possono fare diciamo anche le normative ad hoc, perché magari le normative ce ne sono tantissime le normative, il battimento delle barriere, il cerimento lavorativo agitabili, anche voglio dire gli anziani, gli anziani, le donne, le violenze, ce ne sono tantissime, il problema è chi le fa le normative, perché le fanno chi non le vive, non le ha mai vissuto. E agevolare anche i percorsi proprio burocratici perché certe pratiche vengano espletate nel modo migliore possibile. Lei sul lavoro ce l'ha, svolge una professione importante, quindi la sua è passione pura in questo caso, diciamolo. Esatto, vuol dire sì, io lo sottolineerei, perché insomma si dice che si faccia politica per avere un posto di lavoro oppure tanto per fare, in realtà io penso di essere l'esempio e spada un attimo quest'idea comune, anzi ho diversi ruoli, pur avendo un lavoro di base che è un tempo pieno, per cui mi riempie la giornata, è anche un lavoro abbastanza importante all'interno della Saipem e ho diversi ruoli anche decisivi e abbastanza pensanti. Provanti diciamo. Provanti sì, ora per esempio anche da ultimo, anche a livello sindacale, ho cercato di portare, diciamo, un'innovazione anche lì, basandosi sempre sul concetto dell'isabilità un attimo allargliare, diciamo, perché ho cercato di far inserire il contratto nazionale di lavoro alla figura di versi di manager. Ah. E' una figura che all'estero esiste? E' una figura che all'estero esiste e esiste nelle più grandi multinazionali italiane, quindi volevo cercare di portarla anche qui da noi, quindi, insomma, sono belli da fare. Ecco. Il ruolo che ora vorrei, insomma, la messa in gioco, ecco, per Fano, è veramente un qualcosa che mi permette fare per principio. Per principio perché, ripeto, sono arrivata da poco a Fano, abito il mio lavoro da Fano da 4 anni e ormai l'ho scelta come la mia città. E quindi mi accorta e quindi mi sembra veramente una scelta irriunciabile, un dovere, dover fare anche qualcosa per il cittadino militano e soprattutto per quelli che hanno, diciamo, più problemi. Ecco, quindi, volendo, insomma, sintetizzare in un appello al voto che naturalmente è necessario e doveroso, lo slogan suo che la contraddistingue parla chiaro, insomma. Il mio nome ha parlato chiaro, l'ho voluto fare apposta e ho molta irromia perché secondo me l'irromia salva la vita e se non ci fosse guai, a me l'ha salvato parecchio e quindi per una Fano all'altezza di tutti. E quindi, insomma, il sostegno per, insomma, le prossime amministrative all'Avvocato Alessio di Girolamo nella lista noi giovani per Fano. Insomma, quindi una battaglia non solo in termini pratici la sua, ma anche culturale e soprattutto anche di formazione e di giustizia civica, se vogliamo, e proprio di comunità. Va bene. Grazie per essere stati in nostra compagnia e ringraziamo l'Avvocato Alessio di Girolamo per essere stata qui con noi in questo spazio e ricordiamo che è candidata al Consiglio Comunale nella lista noi giovani per Fano che sostiene il sindaco uscente Massimo Seri che va e corre per il suo secondo mandato. Grazie e buon lavoro con tutti gli impegni che ha da dover affrontare. Bene. Grazie anche a voi per averci seguito in questo ulteriore approfondimento politico ai prossimi appuntamenti. Arrivederci. Grazie a tutti.